ciao ragazzi io sono davide benvenuti sul mio canale youtube mi raccomando prendete posto sui banchi perché oggi andiamo a svolgere la terza lezione della mia serie a scuola di fpv freestyle con davide fpv dove andiamo a vedere come svolgere i flip ormai sarete diventati dei campioni a rollare scommetto che rollate pure mentre entrate nei vostri letti la sera prima di dormire prendete posto ai banchi ragazzi non accetto giustificazioni preparate i vostri pennuti meccanici perché prima vi spiego in che cosa consiste un flip e poi andiamo subito sul campo così facciamo la pratica che è quella che vi piace di più mi raccomando non scordate di iscrivervi al canale qui in basso e di attivare la campanellina per ricevere le mie notifiche quando pubblicherò le successive lezioni di questa serie qui inoltre se volete ragazzi potete supportarmi su patreon trovate il link qui sotto in descrizione basta pochissimo ma contribuite a far sì che vi svalanghi addosso sempre contenuti nuovi inutile dirvi che per tutti coloro che sono arrivati a questa lezione per la prima volta ragazzi qui in classe si segue un percorso preciso quindi vi consiglio prima di eseguire la pratica di questa lezione di andarvi a vedere le lezioni precedenti trovate il link della playlist qui sotto in descrizione ma di tutto ragazzi che cos'è un flip allora il flip non è altro che il classico salto mortale che fanno gli acrobati solo che noi lo faremo con i nostri quad quindi se questo è il mio quad ragazzi allora un flip può essere compiuto sia in avanti che all'indietro quindi consiste in un giro di 360 gradi in questo modo oppure dalla parte opposta ok adesso è un po più complesso rispetto al roll perché quando effettuiamo il roll come avete visto abbiamo sempre l'orizzonte davanti a noi ed è più semplice perché è facile avere i nostri punti di riferimento quando effettuiamo un giro completo di 360 gradi a destra a sinistra comunque c'è sempre l'orizzonte davanti il flip non è così ecco perché l'abbiamo visto in una lezione successiva al roll perché io non ho sempre davanti a me i riferimenti che mi guidano però ci sanno dei trucchetti e adesso li vediamo nella lezione di pratica innanzitutto tra il flip frontale e il flip posteriore quello più semplice da imparare è il flip posteriore perché mentre io sto girando ok in fase di chiusura inizio a vedere il terreno quindi ho prima un punto di riferimento nel flip invece frontale ok il punto di riferimento ce l'ho all'inizio ma non alla chiusura quindi è più difficile chiudere il flip in modo pulito adesso vi faccio vedere quali sono i movimenti base del roll allora quello che si usa fondamentalmente è come al solito il vostro stick del gas ok io ce l'ho qui sulla sinistra ok e il lo stick del pitch che io ce l'ho qui sulla destra quello che dovete fare ormai l'abbiamo capito anche sul roll prima di tutto do una botta con il mio gas ed elevo il drone quindi vado su do gas e levo in questo momento il mio drone sta galleggiando mentre galleggia vado o a picciare in questo modo quindi faccio un flip frontale quando sto per chiudere il flip quindi la linea dell'orizzonte ritorna davanti a me ritorno a posto ok stessa cosa al contrario possiamo fare il flip all'indietro cioè vado comunque a dare gas quindi do una botta di gas levo nel momento in cui il mio quad sta galleggiando quindi ho tolto il gas vado con il pitch in basso quindi in questo caso sto flippando all'indietro ok quando vedo che la linea dell'orizzonte sta tornando parallela davanti a me riporto lo stick a posto e chiudo il mio flip quindi rifacendolo veloce flip in avanti ta ta flippo e chiudo e poi recupero con il gas no ok stessa cosa all'indietro gas levo flippo chiudo e recupero con il gas lo vedremo meglio direttamente nella pratica con la stick cam ormai lo sapete provate prima ad eseguire questa lezione di pratica sul simulatore e quando vi sentite un po' confidenti che avete memorizzato i movimenti venite a fare la pratica sul campo perché ragazzi cioè la realtà è sempre tutta un'altra cosa quindi adesso vado a preparare il mio pennuto meccanico ragazzi mettiamo la lipo e andiamo subito sul mio fantastico campo che ho qui alle mie spalle state con me bene ragazzi iniziamo questa lezione come al solito sceglietevi un posto tranquillo lo sapete inutile che ve lo dico ok allora ormai avete super confidenza con l'elevazione ok però prima di iniziare a eseguire i flip comunque fate un po' di elevazione con il trotto prendete un po' di confidenza con i secondi in cui durante i quali il nostro quad sta in aria cioè ormai lo sapete ok perfetto a questo punto quando iniziate a fare il flip abbiamo detto che i flip sono due adesso ve li faccio vedere cioè il primo è questo ok e il secondo è quello all'indietro qual è la differenza ragazzi che quando compie un giro di questo tipo non ho come vedete il punto di riferimento della terra alla fine ma ce l'ho all'inizio vedete e non ce l'ho alla fine quindi mi risulta come dire difficile perdo un po' l'orientamento per chiuderlo non ho questo problema invece quanto faccio questo flip qua vedete riesco a vedere per ultimo il terreno e quindi mi è più facile chiuderlo per iniziare a imparare dovete andare ovviamente più in alto possibile in modo tale da prendere confidenza con i vostri rates e con la velocità di rotazione che avete sull'asse del pitch quindi andate in aria ok e eseguite il flip piano piano vedete a questo punto quando rivedete il terreno correggete in modo tale di far ritornare l'orizzonte perfettamente davanti a voi ovviamente all'inizio imparate fatelo piano ok perfetto poi mano a mano che andate avanti lo velocizzate è importante lavorare sulla chiusura cioè l'orizzonte deve perfettamente ritornare parallelo davanti a voi ok perfetto quindi concentratevi pure sui miei stick guardateli bene faccio l'elevazione con il trotto e poi ruoto con l'asse del pitch e recupero dal primo trick che dovete imparare il flip all'indietro ok vedete così vedo il terreno e recupero vedo il terreno e recupero vedo il terreno e recupero mano a mano che vallenate ok cercate di farlo sempre più velocemente e più raso terra vedete se io aumento ok perché praticamente si impara con il flip all'indietro come primo trick ragazzi perché è più facile correggere se avete fatto un errore in quanto io vado subito all'indietro ok dopodiché posso vedo il terreno vedete vedo il terreno e quindi posso correggere se ho fatto qualche errore se sto invece così e vado all'indietro vedete non lo vedo il terreno guardate vedete non lo vedo quindi perdo un po' l'orientamento e a volte mi impaurisco pure quindi importante ragazzi ascoltatemi seguite questa sequenza per imparare quando avete preso confidenza con il flip ok il flip all'indietro iniziate a provare il flip anteriore quindi il flip davanti che è questo ok anche in questo caso riniziate sempre a una bella altitudine così avete tempo per correggere e recuperare eventuali errori date gas lo fate piano e chiudete date gas lo fate piano e chiudete vedete qui io alla fine non ho il punto di riferimento che è il terreno quindi dovete stare un po' più attenti quando fate questo flip qui ok sempre molto 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 attenti e iniziate sempre a farlo a una bella altitudine da terra e poi mano a mano andate sempre più vicino ok sempre più vicino al terreno qui in questo secondo trick dovete più far diciamo riferimento alle tempistiche unite alla coordinazione degli stick mi raccomando guardate bene gli stick qua sotto quando avete imparato diciamo a capire com'è il movimento a un'alta altitudine dal terreno questo perché così almeno recuperate ok a quel punto ragazzi scendete e iniziate a rischiare a fare i flip ok più vicino terra possibile perché lì poi alla fine che che c'è più divertimento e poi nel video diciamo che neanche meglio ok più sto vicino a terra vedete è più carino è bene ragazzi come avete visto per eseguire un flip fatto bene ci vuole molta più pratica e meno studio quindi il consiglio che vi posso dare è appena avete fatto vostro il movimento tramite il simulatore andate sul campo così come ho fatto io e flippate 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 poi se avete imparato pure bene il roll li mixate iniziate a mettere ogni tanto qualche flip ogni tanto qualche roll ragazzi destra sinistra avanti indietro importante non fossilizzatevi solo su una direzione perché come già vi ho detto poi i vostri voli diventano monotoni e fate 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 tanta pratica perché alla fine vi verrà proprio automatico ok saprete in base alla percentuale di gas che avete impartito al vostro quad saprete ben o male quanti secondi ci vogliono e che velocità dovete mettere sull'asse del pitch per chiudere la vostra flippata quindi pratica pratica e pratica la prossima lezione che ormai sarete diventati dei mostri a flippare ma soprattutto a rollare ci alleneremo su come diciamo entrare all'interno dei gap quindi studiarli prendere bene la mira qualche trucchetto per impostare la linea e nella seconda parte della lezione ci metteremo pure flip e roll dentro i buchi ragazzi è sempre una questione di buchi questa lezione ragazzi finisce qui mi raccomando condividete il video date il link ai vostri amici che stanno imparando se vi è piaciuto ovviamente mettetemi sempre un like per supportarmi adesso basta con questi video e andatevi a divertire diet